Buongiorno Iosefin, sono tornato a Macerata ed ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni. Evidentemente i miei messaggi sono arrivati al cuore, alla pancia e alle vagine delle persone. Sicuramente non ai cervelli perché dopo l'avvento di Ratzinger di quelli ne sono rimasti ben pochi, ma tant'è. Si vocifra che a causa della situazione straziante si è in arrivo la puttana in regalo per me. Tuttavia c'è un problema, per Alberto Passarini è folle e quindi pericoloso, e pertanto chiedo che il nostro incontro avvenga sotto la luce dei riflettori in mondo visione, così tra l'altro potremo tutti ammirare la sua bellezza, la sua eleganza, il suo portamento, ma soprattutto ascoltare le sue parole allorquando le chiederò cortesemente di spiegarmi i miei primi 40 anni di segue. Se il nostro incontro avrà esito positivo, allora ci congiungeremo a telecamere spente. Qualora invece dovesse risultare fallimentare, la signorina in questione verrà decapitata. Poche regole e semplici. Ci vediamo nei prossimi video messaggi.